Noi l'attacco può contare soltanto sull'attacco. Ah, è vero. Se davanti ognuno di noi ha risolto con un altro beccante, ha avuto segnato almeno il caricato. Comunque è il giorno di strada, l'attacco non dice gli amati. Esatto. Ma bene. E a proposito di ciò di strada, l'accademia d'oro non è seconda a nessuno. Quindi su base a quanto giocare tutte le partite. Anche quest'anno non voglio sentire scopi, ragazzi. Dovremmo essere noi a vincere gli occhiolati. Vedi, ma a casa? Da qualche minuto il capitano della ragazza ha cambiato posizione in campo. Ora gioca sulla linea negli atti campi. Bisogna che sarei divisa a testa. Ma te non c'entriamo. Dove non farlo a pensare. Fermiamolo! Ma a viso! Se basa avanza, libera così facilmente degli avversari. Siamo tutti con me, capitano! Grazie, grazie, inizia nazionale! Dopo una lunga corsa, vada a piede, fanno un passaggio alla sua destra in direzione di Taki. Ci vorrei, adesso è che ti compievi lo sovienzo che è in direzione di Taki. Mi sbaglio, una bella sorpresa per tutti i sali. Ma chiusi, ultimo lavoro! Dici da un comando a contrastare l'avversario ma il suo tetto di muore da poco.